Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming, in questo nuovo video di Animal Crossing New Horizon vi spiegherò come ottenere l'applicazione catalogo NOC L'applicazione che vi permette direttamente dal NOC Phone di fare i vostri acquisti senza regarvi al centro servizi, quindi senza interagire con il terminale della NOC Ci tengo a precisare però alcune cose, l'applicazione ha gli stessi limiti del terminale, cioè potete fare un totale di massimo 5 acquisti al giorno o 2 regali a persona, quindi 2 regali ad ogni singolo contatto che avete in lista Inoltre l'applicazione non permette di fare gli acquisti con le miglia, per quello dovete andare ogni volta al terminale della NOC Personalmente vi consiglio di farlo almeno una volta al giorno perché ricevete delle miglia gratis Come fare per ottenere questa applicazione? Non dovete fare altro che acquistare o regalare 100 articoli È indifferente il costo, potete anche scegliere il prodotto più economico e acquistarlo 100 volte o regalarlo 100 volte, è indifferente Una volta che avete fatto 100 acquisti riceverete dal terminale del centro servizi qui dentro l'applicazione gratis sul vostro NOC Phone Potete tenere sotto controllo il progresso di questa sfida direttamente da Miglia di NOC Plus Quindi da qui scendete verso il basso e assicuratevi di raggiungere il quarto timbro qui, quindi nel catalogo dei desideri Come potete vedere al centesimo articolo acquistato riceverete il quarto timbro e in regalo l'applicazione del catalogo NOC per fare i vostri acquisti in comodità ovunque vi troviate e in qualsiasi momento Con le stesse limitazioni del terminale della NOC Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Dash Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento